Stanno lavorando in maniera congiunta, senza sosta, nella gestione degli interventi relativi all'emergenza sanitaria causata dal Covid-19, continuando a garantire servizi ordinari e il soccorso nei territori. Sono i volontari del 118, il primo filtro tra possibili infetti e gli ospedali, un lavoro continuo e ad alto rischio. Il primo giorno di emergenza, quando siamo stati chiamati, racconta Carla, una volontaria, non sapevamo neppure cosa fosse questa malattia, né dove ci avrebbe portati. Poi questi ragazzi il virus hanno imparato a conoscerlo, sulla pelle della gente che arrivava in ospedale. Intanto la loro vita è stata stravolta, turni massacranti dalle 12 alle 14 ore, un lavoro incessante. Andrea, un altro volontario, racconta invece che i loro familiari sono preoccupati, ma tra colleghi hanno deciso di non parlare di quanto sta accadendo. Oltre ai turni incessanti, i volontari sono costretti alla reperibilità H24. Molti non si lamentano, tanti altri si definiscono invisibili perché senza contratto e senza diritti e in più esposti a un rischio continuo, perché in talunità i casi mancano sia le mascherine che gli occhiali di protezione. Eppure sono sul campo come tutti gli operatori del settore, hanno l'obbligo di fare aggiornamenti e corsi, ma proprie spese. L'unico riconoscimento? Un rimborso spese per il pranzo e il trasporto. In questo periodo di grave emergenza si sente sempre più spesso parlare del fatto che mancano gli operatori ed ecco che spunta la proposta al Governo e alla Regione, perché a questo punto non assumere i propri volontari.